E' una sera terribile, lo ripeto, è il 10 ottobre, siamo sulla terrazza, a un certo punto Genovese prende questa ragazza di 18 anni, scende le scale dalla terrazza alla porta in casa sua, nella sua camera da letto, chiude la porta e loro rimangono lì soli. Fuori dalla porta c'è questo ragazzo, che è un bodyguard, una guarda che ha un compito, che si chiama Simone Bonino e ha un compito preciso. Che compito aveva? Presidiare l'ingresso di questa... Non si preoccupi, lei non è abituato, dietro le telecamere, lo dico sempre, quando si fanno delle interviste, soprattutto con ospiti che non sono abituati a stare in televisione, si potrebbe stare un po' in silenzio. Prego. Allora, stavo dicendo, dovevo presidiare l'ingresso di quella famosa porta che portava poi alla stanza. Ma chi gliel'aveva detto? Qualcuno che... Un suo capo? O all'interno della casa? Qualche referente che stava all'interno, esatto. Ma chi? Si può fare il nome? E chi non si può fare il nome, no? Perché c'è un'indagine ancora... Non è Leali che sta lì in collegamento da... Non è per caso Leali, no? Non lo conosco, solo di vista. Solo di vista la conosce. Eh, per lei ripensando a quella sera, ci faccia... Ci ha riflettuto su quello che avrebbe forse potuto ascoltare, sentire, percepire. Ci spieghi bene. Perché immagino che dentro di lei, forse sapendo tutto quello che è uscito fuori, forse un pensiero l'ha detto. Forse magari fossi stato un po' più attento. Non c'entra l'essere stato attento a meno. La musica era troppo alta. Anche se doveva cadere un piatto, era impossibile sentire qualsiasi rumore. Cioè, lei era messo davanti alla porta? Esatto. Entrano insieme? Sì. Entra insieme Genovesi la ragazza. Com'è entrata questa ragazza? Con le sue gambe, normalmente. Le sembrava normale oppure le sembrava... È un dettaglio molto specifico. Non entrerai in merito. No, lei ci... Questa sera lo può dire, tanto è stato già interrogato, quindi può dire se la ragazza... Perché siccome c'è un'indagine in corso, mi è stato suggerito di non dire cosa c'è. Dal suo avvocato? Esattamente. Però lei ha visto le condizioni di questa ragazza? No. Se l'è passata davanti, ha capito com'era, come stava? Sinceramente era come tutte le persone, stavano festeggiando. Un po' esuberante. Se stava a Umbriaca per termine, si era accorto. E quindi lei mi fa capire che è entrata con le sue gambe dentro quella stanza? Esattamente. Che ora era, più o meno? Non lo so, era nella serata. Di preciso... Era la prima volta che stava davanti a una porta della casa di Genovese? No, come avevo già detto, ero già stato altre volte.